Al via anche i tornei di pallavolo. In serie B maschile, vittoria del Prata per 3-0 con la Duna Volley, 25-14, 25-22, 26-24, i parziali sortiti. A segno anche la pallavolo Motte che ha espugnato Riva del Garda per 3-1, primo set perso 25-22, quindi i leoni bianco-verdi hanno cambiato marcia giudicandosi gli altri set per 20-25, 26-28, 21-25. C'è l'attesa per l'esordio del Bibione Mari in serie B, a Padova non è andata come preventivato, è arrivata una sconfitta per 3-1. Il sabato comunque abbiamo fatto una partita positiva, molto bella, è stata una partita comunque punto a punto su tutti i parziali, tutti i set, non è stata facile per loro, alla fine abbiamo ricevuto i complimenti perché non si aspettavano una squadra competitiva come la nostra, affrontando poi fuori casa la prima giornata, per noi è stato un buon risultato, purtroppo non abbiamo portato a casa neanche un punto, però insomma non era questa la partita forse per far punti, ma soprattutto sicuramente per fare esperienza. Una serie B che è stata rinnovata in diversi elementi? Sì, quest'anno abbiamo alcune nuove presenze, nuove diciamo tra virgolette, perché è rientrato Nicola Puar come opposto dal Mantua, ha fatto due stagioni a Mantua, è rientrato e quest'anno ce l'abbiamo nel nostro sestetto, anche se sabato, è una cosa da dire, non ha potuto giocare per un piccolo infortunio, lo stiamo recuperando, sperando di averlo al più presto, perché per noi è una pedina fondamentale, quindi riallacciando anche la partita di sabato siamo contenti, insomma perché comunque abbiamo giocato anche con un opposto che ha fatto una bella prestazione comunque, che è ben noto, che è un altro nuovo acquisto, che arriva dal Treviso, giocava l'anno scorso a Belluno, poi abbiamo alcuni giovani che vengono dal settore giovanile, poi ci sono le riconferme di Lazzari, ovviamente di Favaretto, di Mattiuzzo, Chiodin, quindi diciamo che il sestetto è molto ben amalgamato tra giocatori, non voglio dire vecchi, ma giocatori di esperienza e giocatori giovani e questo mix ci dà la forza, insomma, per affrontare questo campionato. Volley Team Club, come tutte le altre squadre alle prese con questo nuovo format della Serie B, il vostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è sicuramente fare una salvezza, il prima possibile, penso che dovremmo avere le qualità per farlo, dopodiché come sempre, come ormai da alcuni anni, l'obiettivo è quello di affrontare con un sestetto giovane, anche sabato, per esempio, abbiamo giocato alla fine con 2,98, 1,97, insomma abbiamo affrontato una partita con dei ragazzi giovani. In Serie D femminile le cose non sono andate bene a Palavolo Portuguaro e Volley San Stino. Le portoguaresi, a ritorno nel volley regionale dopo qualche anno d'assenza, sono state battute piuttosto nettamente a Cadoneghe, 25-15, 25-21, 25-18 i parziali, da capire il valore del campionato, ma è del tutto evidente come in casa Portoguarese si debba ancora lavorare. San Stino ha perso sul proprio campo per 3-1 con Spresiano, ma i parziali danno l'idea di una sfida molto equilibrata, combattuta colpo su colpo, primi due setta da Panaggio delle Trevigiane, finiti 27-29 e 23-25. Nel terzo parziale le Liventine piazzano un imperioso 25-14 che sembrava aver fatto girare il match, ma nel quarto set le Trevigiane si sono imposte 26-14, aggiudicandosi i primi tre punti della stagione. Ai nastri di partenza anche la prima divisione femminile, gran bel successo del Cegge sullo Spinea. La Palavolo Concordia era attesa da una sfida insidiosa con l'SC Solution, qualche patema d'animo, ma alla fine è arrivata una vittoria per 3-0. Esordio con vittoria, era giusto per far capire a tutti che questo campionato lo vogliamo vincere? Sì, la prima partita, quindi va bene la vittoria, dobbiamo capire un attimino adesso che squadra, le nostre avversarie come saranno. Sicuramente sarà un campionato molto lungo, difficile, molte squadre giovani come la nostra, ringiovanita di 2-3 anni in media di età, quindi i risultati saranno sicuramente altalenanti. L'obiettivo è migliorare il risultato dell'anno scorso sicuramente. Quest'oggi è un primo set in cui avete, sotto certi punti di vista, sofferto, ma l'avete portato a casa. Un secondo giocatore grande, un terzo in cui avete avuto un altro calo di concentrazione all'inizio, poi siete riusciti a farlo vostro, quindi avete vinto 3-0, ma i contenuti di questo match cosa dicono? I contenuti di questo match dicono che, come sapevamo, il primo set è sempre difficile, la prima partita della stagione è sempre difficile. In più, con tre atleti, anche 18 in campo, sapevamo che l'altalenanza dei punteggi era quasi certa. Siamo riusciti a rimetterlo in piedi con un 33-31, mi sembra, finale. Il secondo abbiamo vinto in maniera agevole. Il terzo, come al solito, c'è chi è in vantaggio 2-0 ha un piccolo calo, chi è sotto 2-0 cresce un po', ma fortunatamente siamo riusciti a concludere con un ottimo 3-0. Sì, la partita è stata dura all'inizio, siamo riusciti a migliorare, speriamo di fare sempre meglio. Quest'anno ci sono state delle nuove aggiunte, nel senso che alcune delle ragazze del gruppo più giovane hanno iniziato a giocare con noi, ci stiamo integrando, dobbiamo trovare ancora un po' i nostri equilibri, ma per il momento siamo un gruppo abbastanza unito. Siamo contenti del risultato, si poteva fare meglio, ma abbiamo un campionato davanti che ce lo permetterà. Siamo nella palestra del Giudocchiai Atena con Marco Dotta e Tommaso Drigo, siamo qui perché domenica ci sono stati gli esami di cintura nera e Tommaso Drigo è la nuova cintura nera del Giudocchiai Atena Portogluaro. Che numero per la precisione Marco? È la 47esima cintura nera della nostra società e diciamo che è il più giovane cintura nera perché ha appena compiuto 16 anni. Ieri agli esami ha fatto un esame stupendo, era preparatissimo e tutto. Quello che appunto volevo dire è che questo ragazzo qui ha una passione sfrenata per il Giudo, oltre che praticare il settore Catà, quindi con ottimi risultati. È stato quest'anno convocato nella Nazionale di Catà per fare gli europei. Ricordiamo il loro sesto posto ad Olbia e proprio sabato, il giorno prima, ha vinto insieme al suo compagno Andrea Rizzetto, hanno vinto ben due medaglie. Un secondo posto nel Catà completo che è quello che diciamo ci interessa moltissimo in quanto diciamo al campionato, al Grand Prix eccetera. È il primo posto nel Catà parziale. Allora Tommaso, lo ha già anticipato il maestro, è stata una grandissima stagione. Sì, è stata una grandissima stagione appunto perché abbiamo, in Andrea abbiamo partecipato agli europei, al loro Macap a Olbia il 22 maggio, perché appunto siamo stati convocati in Nazionale, abbiamo partecipato ai campionati italiani e a 5 delle 6 tappe del Grand Prix. È un'emozione fortissima appunto avere la cintura nera e devo dire specialmente grazie al maestro Marco Dotte e anche al maestro Marco Durigon che mi hanno dato una mano ad arrivare fino a questo livello. Diciamo che la cintura nera, il primo dan, praticamente è il primo gradino. Ecco, da questo momento in poi, io dico sempre a chi appunto o la ottiene per risultati agonistici oppure per esame, è questo il momento in cui uno diventa veramente un giudocca e da qua poi inizia il suo cammino che lo può portare sia a avanzare di grado e sia anche a diventare eventualmente un insegnante e tutto, ecco sì. Quindi è anche per lui comunque una bella responsabilità, anche di esempio, verso tutti gli altri che vengono in palestra, tutti gli altri allievi che tutti per forza di cose ambiscono a diventare cintura nera. Venendo alla competizione che hai vinto sabato, è stata un'ottima gara che conferma appunto il vostro valore. Sì, 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 io e Andrea siamo stati soddisfatti dei risultati avuti e siamo un po' anche stupiti del secondo posto nel Nagano Kata completo perché pensavamo di arrivare ai terzi. Senti, quali sono i tuoi obiettivi come giudocca? Beh, andare avanti con i Dan, principalmente, e poi migliorare sempre più Kata. Siamo nella Club House del Rugby Portogruaro con Leonardo Zinetti per parlare della partita di domenica scorsa con Lo Jesolo, è finita con una sconfitta 27-5. Diciamo, non era quella una partita dove sperare di poter fare punti visto che Lo Jesolo è una delle squadre pretendenti al salto di categoria. Sì, speravamo sicuramente di fare meglio. È andata così. Abbiamo sbagliato molte zone fondamentali del gioco del rugby, i punti d'incontro, che sono stati molto più aggressivi loro. Noi ci siamo lasciati un po' fregare, diciamo. Sono stati... hanno creato qualche fase di gioco in più. Noi abbiamo sbagliato tanti placcaggi e da lì sono nate tutte le mete, dai placcaggi sbagliati, diciamo. Ecco, adesso dovevate giocare domenica in casa con il Gemona e invece la squadra, appunto, Udinese si è ritirata. Quindi adesso vi aspetta una lunghissima sosta. Addirittura si parla di... dovete giocare nel mese di dicembre. Sì, adesso la prossima partita sarà il 4 di dicembre. Abbiamo una lunga pausa, tutto a favore, diciamo. Abbiamo molti giovani, quindi a noi ci va bene perché mettiamo su esperienza e minuti sulle gambe. È una squadra che si sta costruendo, che va costruita. Lavoriamo per il futuro, sì. Bisogna sempre fare meglio, comunque. Ciao. Ciao. Grazie per la visione!